finalmente l'ansia cala ma la pressione si fa sentire tantissimo ciao ragazzi questa sera sono un po più rilassato del solito perché come ho detto appunto l'ansia un po cala poco poco facciamoci strane idee però la pressione la pressione si sente ancora molto bene la pressione si sente meglio l'ansia partiamo da quella cala perché finalmente mi sembra di avere un progetto sono molto chiaro sono molto deciso è tutto il tavolino molte cose che mi preoccupavano mi impensierivano alla fine ho visto che in 02 sono riuscito a portarla a termine senza grandi problemi questa è stata una intoccasana da paura c'è una cosa fantastica per esempio avevo dei dubbi sul su dei pacchetti quindi su delle offerte che ho fatto per il mio lavoro e invece poi li ho ricontrollati ho rivisto li ho un attimino ma proprio un attimino messi in linea ed è uscito quello che era uscito anche prima quindi fantastico tutto in linea insomma sai sono quelle piccole cazzate che alla fine ti fanno prendere un po' di fiducia in in te stesso e quindi ecco è andata molto 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 bene restano comunque molte a molte molta preoccupazione no perché non non so se è meglio andare come vi raccontavo no c'ho delle offerte in ballo così e non sai mai cosa scegliere cosa è meglio ma questo forse chi vivrà vedrà no scopriremo solo vivendo cosa è meglio meglio fare una scelta piuttosto che un'altra invece ho avuto una riflessione abbastanza interessante con una persona importante e io ho detto guarda sono in questo in questo bivio cosa faresti? guarda prenditi un foglio scriviti i pro e i contro sullo stesso foglio fai due colonne vedi un pochettino tutto quello che sai lo metti giù con i numeri con i dati importanti e fai il bilancio cosa è meglio cosa è peggio no? così in questo modo anche la scelta la scelta che andrei a fare anche se non è la scelta migliore oggettivamente sarà la scelta migliore per me o per te che lo andrai a fare e sarei pienamente convinto in questa maniera qua no? mi piace molto ragionare sui numeri solo che ragazzi mi piace anche pensare all'imprenditoria comunque qualcosa di sicuramente basato sui numeri assolutamente però diamo un po' di spazio anche alla fantasia e al provare secondo me è molto importante questo fatemi sapere se vi piace l'idea oppure sono pazzo io ciao buona serata